L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha installato nuovi strumenti per misurare il rumore sismico ambientale nel bacino di Boiano. Lo ha comunicato nei giorni scorsi a tanti sindaci dell'area madesina. È un fatto positivo secondo lei, sindaco? Ma guarda, questo è un progetto che a noi è stato sottoposto all'attenzione da parte dell'Università della Sapienza di Roma e da parte dell'Istituto di Geofisica. Nel momento in cui ci hanno proposto questo progetto, noi come amministrazione abbiamo messo a disposizione tutto quello che loro hanno chiesto e in particolare ci avevano chiesto un sito particolare dove non ci fossero particolari rumori, dove inserire un'apparecchiatura che avrebbe dovuto rilevare non i rumori in questo caso, ma avrebbe dovuto rilevare proprio eventualmente dei movimenti sismici. Questa apparecchiatura, cioè il posto, è stato localizzato a ridosso del castello di Civita perché è un luogo tranquillo, poco frequentato dalle macchine e quindi si è partiti già da durante l'estate. Prima di Natale è stata fatta sempre qui nel Palazzo Colagrosso una conferenza da parte dell'Istituto in cui sono stati spiegati tutto quello che è il progetto che viene portato avanti. Questo è un secondo step, quello di adesso, cioè a dire che l'Istituto posizionerà in molti luoghi, non solo di Boiano, ma anche degli altri comuni che fanno parte del progetto, tutta una serie di sensori per rilevare quelli che sono i rumori. Quindi chiaramente tutto è proiettato nella dimensione di andare a verificare quelli che possono essere i possibili movimenti che si realizzano a livello sottostante.